Guerra in Ucraina, la testimonianza di Don Volodymyr Liupak, responsabile della comunità greco-cattolica a Ucraina. Se vogliamo la pace prepariamo la pace, Spezia dice no alla guerra, presidio in piazza mentale. Covid-19 diminuiscono i nuovi positivi, sono 1.800 a fronte di 10.641 tamponi. Il compratore britannico Auschwitz ha stilato la classifica dei 10 paesi più belli d'Europa, l'unico borgo italiano è Vernazza. Spezia calcio domani in campo alle 18 nella delicata partita casalinga contro la Roma. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TLS giornale. La nostra diocesi si è unita alla richiesta di Papa Francesco di offrire la preghiera e il digiuno del mercoledì delle ceneri per implorare da Dio il dono della pace, in modo particolare per la situazione in Ucraina. Ieri sera nella parrocchia di San Pietro Apostoli in Mazzetta il Vescovo ha recitato il Santo Rosario. Presente anche Don Volodymyr Liupak, responsabile della comunità greco-cattolica ucraina di Lucca. Da lui una testimonianza diretta su come la comunità ucraina sta vivendo questi terribili momenti. Vediamo il servizio di Nicola Carozza e Sergio Diofili. Non pensavamo di rivivere l'emergenza della guerra all'interno dell'Europa. Cosa sta vivendo la comunità ucraina? Noi eravamo, posso dire quasi sicuri che non succedesse questo che è accaduto alla larghezza di una violenza così totale contro il nostro paese. Certamente il primo colpo, eravamo spaventati, non credevamo agli nostri occhi che questa è verità che sta accadendo. Oggi la comunità spezzina si è unita per pregare per la pace, per la pace per tutti gli uomini. Sì, questa per me personalmente e credo che per tanti nostri fedeli sia qui a Liguria che anche a Toscana perché trasmette televisione per diversi posti. Penso che tante persone si potevano riunire per pregare, soprattutto qua dove sono stato presente fisicamente. Ho visto una Chiesa che prega, prega per la pace, pace come dono di Dio, pace come dono di principe di pace, di Cristo per tutti noi. Anche Monsignor Palletti ha invocato la pace come una pace che nasce innanzitutto dal cuore. È vero perché questo che lui ha espresso oggi, il Vescovo, lui questa cosa porta nel suo cuore, nel proprio cuore perché conoscendo lui da tanti anni io posso questo testimoniare come sacerdote, come un credente e la mia presenza anche questa sera era il suo invito per pregare insieme. E allora invitiamo anche tutti i telespettatori di Tele Liguria Sud di unirsi con noi in una preghiera magari poi nelle proprie case. Sì, perché il Signore non lascia i limiti, il Signore unisce i cuori e ringraziando anche il TV e questo cuoro bellissimo che è cantato qua in questa parrocchia, veramente. Vorrei soltanto citare del secondo mistero del dolore, quello che è scritto da Gaudium e Spes Pastorale. in tal modo la pace è frutto anche dell'amore, il quale ha oltre quanto può apportare la semplice giustizia. Quindi la pace è più di giustizia. Noi cerchiamo a volte la giustizia, invece Dio dona la pace. Unendosi nella preghiera potevamo questo sperimentare assieme. Grazie. Grazie, buona serata a tutti. Signore benedica. Grazie. E a partire da questa sera la facciata del Palazzo Civico della Spezia sarà illuminata di blu e giallo i colori della bandiera ucraina per esprimere solidarietà al popolo ucraino attaccato militarmente dalla Russia. Venti di guerra nell'est Europa, se vogliamo la pace, prepariamo la pace. E questo è il grido sotto al quale i pacifisti spezzini si sono riuniti in un presidio in piazza Mentana. Una manifestazione che condanna quanto sta accadendo in Ucraina, ma che richiama le conseguenze che gli eventi bellici hanno sulla provincia spezzina. Vediamo il servizio di Davide Morina e Ginevra Masciullo. Siete scesi in piazza contro la guerra. Qual è il messaggio che volete far passare in questa giornata? Il messaggio complessivo è quello che fa riferimento alla rete italiana Pace Disarmo, quindi che fa richiamo al fatto che la pace si costruisce tutti i giorni e ogni giorno con azioni costanti e coerenti in scelte politiche, economiche e sociali che vadano verso la costruzione di una pace vera e la prevenzione dei conflitti armati. Per essere chiari in questo senso abbiamo fatto nel nostro appello si torni a un tavolo di trattative e abbiamo fatto riferimento anche alla nostra situazione locale. La Spezia è una città che vive da anni in buona parte nella sua economia su un'economia di guerra, fabbriche militari, insediamenti militari, quindi esportazione di armi, quindi non possiamo ignorare che nella nostra città in qualche modo creiamo o viviamo una condizione per la quale la guerra è un'evenienza non così lontana e non così poco conseguente rispetto alle scelte quotidiane che facciamo. Il pensiero di questa giornata è rivolto anche alle tante vittime civili che ci saranno in questa guerra? Sì, già ora abbiamo visto quanto ci siano stati i primi bombardamenti, già le prime vittime tra i civili e abbiamo visto quell'enorme massa di popolazione che si sta allontanando, i primi decine di migliaia di profughi che stanno in condizioni invernali tremende stanno varcando i torfini per cercare una salvezza. Dobbiamo fare di tutto per riuscire a far sì che ci sia un cessate il più meno possibile del fuoco per salvaguardare la vita umana e per impedire che ci sia un enorme flusso di profughi nell'Europa. Purtroppo in queste ore stiamo vedendo tanta violenza e questo riporta indietro delle ombre del passato che avremmo preferito non vedere più. Beh, sicuramente. Io in questo momento posso dire che rappresento me stessa ma rappresento anche l'Ane dell'Associazione degli Ex Deportati nei Campi Nazisti. Voglio ricordare che proprio i deportati, coloro che sono sopravvissuti, il 16 di maggio nel campo di Mauthausen si sono riuniti i sopravvissuti e hanno fatto un giuramento, quello che noi ricordiamo come il giuramento di Mauthausen, nel quale hanno giurato non odio ma solidarietà e soprattutto sottolineo la parola solidarietà internazionale perché questo è quello che giurarono, di rimanere uniti una volta raggiunta la libertà per creare un mondo nuovo, un mondo dell'uomo libero, un mondo basato sulla fratellanza, la solidarietà e la giustizia. Quindi in virtù di questo diciamo no alle guerre. Il Consiglio Comunale di Amelia all'unanimità ha deciso di donare il gettone presenza della prossima seduta alla raccolta fondi promossa da Croce Rossa Italiana per aiutare le popolazioni ucraina in questo momento di estrema urgenza e difficoltà. Lo rende noto la Presidente del Consiglio Comunale a Megliese Chiara Salomoni. E vediamo ora i dati diffusi da Alisa sull'andamento della pandemia da Covid-19 in Regione Liguria e nella provincia spezzina. Diminuiscono i nuovi positivi rispetto alla giornata precedente, sono 1.008. i nuovi a fronte di 10.641 tamponi effettuati, di cui 2.846 molecolari e 7.795 antigenici rapidi. Alla Spezia i nuovi positivi sono 119. Purtroppo si aggiorna la lista decessi con quattro vittime, uno dei quali Nasle 5, una donna di 87 anni mancata al San Bartolomeo di Sarzana. Sale così a 5.090 il numero totale delle persone decedute da inizio pandemia in Liguria. Nella nostra provincia poi i casi attivi sono 1.946 su 15.150 regionali. Continua anche a calare la pressione delle strutture ospedaliere, dove i ricoverati odierni sono 371, 22 in meno rispetto alla giornata precedente. Stabili le terapie intensive a 23. In dettaglio si tratta di 11 non vaccinati e 12 vaccinati con patologie covid correlate. Anche nella nostra provincia calano le ospedalizzazioni a quota 32, 4 in meno. Stabili le terapie intensive a quota 3. Superate infine le 3.390.000 dosi vaccinali somministrate nella nostra regione. Arriveranno a destinazione domenica 27 febbraio, quindi domani, i furgoni del Corriere Espresso di Poste Italiane SDA per la prima fornitura nella provincia spezzina del nuovo vaccino anti-covid-19 Novavax. Le dosi in consegna presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana sono 3.600. Ammontano a 189 milioni i fondi del PNRR per la sanità in Liguria. Saranno destinati a 33 case di comunità, 11 ospedali di comunità e 16 centrali operative territoriali, ma verranno utilizzati anche per adeguamenti alle normative antisismiche, digitalizzazioni e acquisto di nuovi macchinari e attrezzature. Ne ha parlato il governatore e assessore alla sanità Giovanni Totti in Commissione Salute e in Consiglio regionale. In particolare, 70 milioni saranno destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali, 50 milioni per interventi antisismici, 34 milioni per la digitalizzazione e 28 milioni per nuove attrezzature. Al governatore rispondono i gruppi consigliari di minoranza, liste d'attesa che continuano a crescere, mancate risposte sul personale, riorganizzazione della sanità territoriale imposta dall'alto, senza un dialogo con il territorio e gestione dei fondi del PNR, senza una programmazione. Così i capigruppo di minoranza in regione, Luca Garibaldi, PD Articolo 1, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Movimento 5 Stelle e Gianni Pastorino, linea condivisa, dopo il comunicato di Totti sugli investimenti del PNRR in Liguria per la sanità, in cui risponde ad alcune delle domande poste dalla minoranza in aula, ma eluse. Ora ascoltiamo la consueta nota di Riccardo Sottanis, l'argomento è il traffico e la sicurezza sulla strada napoleonica per Porto Venere. Sentiamo. Pote chilometriche negli weekend sulla strada per Porto Venere, quella che comunemente viene definita la napoleonica. Da anni gli abitanti delle frazioni spezzine di Ponente, Marola e Cadimare, e quelle di Fezzano e Le Grazie in comune di Porto Venere, sollecitano interventi migliorativi per evitare i continui blocchi in caso di incidente e garantire sicurezza alle persone, essendo la careggiata priva di marciapiede negli attraversamenti degli abitati. La situazione si trascina ormai dagli anni Ottanta, del secolo scorso. Si era parlato allora della realizzazione di un tunnel in modo da liberare i centri abitati. L'ipotesi tunnel tramontò però, quasi subito, per l'opposizione del comune della Spezia. Da allora la strada ha mantenuto lo stesso vecchio tracciato, salvo qualche piccolo miglioramento. Tutto questo nonostante la presenza di un impianto strategico, la Sdam, nella baia di Panigaglia. Oggi della napoleonica si torna a parlare perché negli ultimi fine settimana la situazione è diventata insostenibile a causa delle lunghissime code che di fatto bloccano l'arteria per ore. Porto Venere è diventata una meta preferita da spezzini e turisti già in questo periodo, figurarsi cosa accadrà durante la prossima stagione estiva. Il problema è all'attenzione dell'amministrazione provinciale, subentrata ad ANAS nella gestione della strada. Finalmente si parla della necessità di reperire finanziamenti per affrontare alla radice il problema. La realizzazione di nuove rotatorie e anche la presenza di più pattuglie dei vigili urbani non può essere la soluzione. Ne sono convinti gli abitanti delle varie frazioni, coloro cioè che oggi sopportano i disagi del traffico. Stefano Fagioni, già presidente della circoscrizione Marola-Cadimare, non ha dubbi sulle cose da fare. Occorre ampliare la strada e mettere in sicurezza la rotonda di Cadimare. Certo, oggi non possiamo più sopportare questa situazione. Ne è convinta anche l'amministrazione provinciale che ha inserito la napoleonica nel piano delle opere strategiche nazionali. Si chiede un finanziamento di 6 milioni di euro. Non sono la soluzione, ma con quei soldi, se arriveranno, si potranno apportare quelle modifiche al tracciato che daranno più sicurezza ai cittadini ed eviteranno le code cui assistiamo sempre più frequentemente anche in pieno inverno. Poco prima delle 10.30 di ieri, durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti di un equipaggio della squadra volante della Polizia hanno notato in via Lunigiana un individuo che, alla vista dei poliziotti, si è dato subito alla fuga, dirigendosi verso la stazione ferroviaria di Migliarina. L'uomo, inseguito a piedi dai poliziotti, prima di essere raggiunto, ha estratto dalla tasca della giacca due oggetti e li ha lanciati contro un camioncino che stava transitando. Si trattava di un bilancino di precisione e di un involucro di cellofan contenente un panetto di hashish del peso di circa 60 grammi. Sottoposto a successiva perquisizione, l'uomo, un cittadino marocchino di 42 anni, con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di un'altra sostanza stupefacente confezionata per un peso complessivo di 82 grammi e di alcuni oggetti in oro da donna sequestrati insieme alla droga. Trattenuto presso le celle di sicurezza della questura, l'uomo è stato processato per direttissima nel corso della mattinata. Il responsabile del danneggiamento aggravato di entrambe le fiancate di un'auto in sosta nel quartiere San Giorgio avrà pensato di averla fatta franca, visto che era trascorso più di un mese da quando aveva compiuto l'atto vandalico. Probabilmente però il soggetto non aveva tenuto conto della ormai capillare diffusione delle telecamere di videosorveglianza piazzate in tutto il centro storico e tantomeno della determinazione degli agenti del nucleo di polizia giudiziaria e della polizia locale di dare un volto e un nome all'uomo. E ora, come ogni sabato, vediamo in anteprima le notizie che saranno presenti domani nella pagina dedicata alla diocesi della spezia sarzana brugnato nel quotidiano cattolico Avvenire. Fermarsi, riflettere, progettare. Il Vescovo Palletti invita tutti ad intraprendere un cammino di profonda revisione di vita. In apertura della pagina spezzina di Avvenire di questa settimana trovate il messaggio del Vescovo per il periodo di quaresima e trovate anche i primi appuntamenti del cammino quaresimale della diocesi. Invece, venerdì scorso alla spezia, nella chiesa di San Pietro, a Mazzetta si è tenuto il rosario per la pace e alla presenza anche di un prete dell'Ucraina, nazione, come ovviamente sapete, tormentata dalla guerra dopo l'attacco sferrato nei giorni scorsi dalla Russia. A fondo pagina imparare in cinque incontri come essere bravi genitori. Il primo di questi incontri si terrà sabato 12 marzo alle 17 nei locali di casa Massa. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione La Famiglia e si tratta appunto di un progetto dedicato ai futuri genitori. A fianco il sorriso della primavera. L'inverno sembra già in archivio. L'effetto è piacevole ma induce a considerare bene il futuro. È una riflessione di Egidio Banti sull'importanza della tutela dell'ambiente e della difesa della natura. E infine l'articolo di spalla, ripresa e resilienza passano da un sociale che parla di sofferenza. Dal giorno d'inizio della pandemia i 15 servizi parrocchiali collegati stabilmente alla Spezia con l'osservatorio della Caritas hanno accolto e assistito 2.465 persone. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino di un quotidiano cattolico avvenire. Si è svolta questa mattina l'Assemblea delle aggregazioni laicali diocesane della Spezia. Un momento d'incontro sul cammino verso il sinodo universale della Chiesa del 2023. Raffaele Maulella con le immagini di Davide Morina. Con l'Assemblea delle associazioni laicali della diocesi della Spezia è iniziata stamattina un'altra tappa del cammino sinodale. Un sinodo che, come ha detto lei anche nell'introduzione, è un sinodo di ascolto, ma di ascolto nel discernimento, non è un dibattito. No, questa è proprio la caratteristica dell'ascolto sinodale. Il silenzio, la parola di Dio, il discernimento, perché Dio ci parla ovviamente in primis attraverso suo figlio, la sua parola, ma anche attraverso tanti avvenimenti della nostra vita, tanti fratelli e sorelle, però questa parola deve essere ovviamente accolta e compresa alla luce dello Spirito. Non è detto che sia necessariamente quello che ci viene detto da un fratello o dalla sorella, ma è in quello che ci viene detto, magari dalla problematica o quant'altro, che Dio ci richiama a un'attenzione nuova per un annunzio nuovo del Vangelo. Un ascolto interno alla Chiesa, ma anche un ascolto del mondo esterno, che in questo momento sembra che abbia delle cose contraddittorie da dirci. Beh, decisamente, sì. Ripeto, non per le cose eventualmente contraddittorie, ma perché il Signore ci richiama ad essere testimoni dentro la nostra storia, evitare quello di fuggire nel momento presente e invece incarnare nel momento presente con le sue problematiche, con le sue difficoltà, ma anche con le sue potenzialità, quello che è il messaggio evangelico. Un momento importante oggi per le aggregazioni laicali della Diocesi Spezzina, l'elezione della nuova segretaria e soprattutto l'inizio del cammino sinodale, un cammino, come ha detto il Vescovo, che è un cammino di ascolto. È un cammino di ascolto, anche perché siamo tante associazioni, non sempre ci conosciamo tutte, per cui questo cammino è proprio per camminare insieme. So che, ripeto, però è un progetto, ovviamente dato dalla Chiesa, per continuare a camminare insieme fino al 2025. L'ascolto, noi ci siamo divisi in cinque gruppi, la domanda principale è come fa la Chiesa appunto per camminare insieme, come fare a seguire lo Spirito Santo, e noi ci siamo divisi in cinque gruppi, si parlava di dialogo, si parlava di ascolto, si parlava di appunto camminare insieme. Il nuovo progetto poi della consulta, della nuova consulta, è quella di conoscerci, quindi di vedere, di portare avanti il nostro cammino, ma conoscere tutti i vari gruppi, spesso e volentieri, abbiamo diversi talenti, confluiamo tutti verso Cristo, però non sempre ci conosciamo, per cui in questi tre anni vogliamo conoscerci di più. Dal primo marzo, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, primo dirigente ingegnere Leonardo Bruni, lascerà il comando della Spezia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per limiti di età. Al suo posto subentrerà l'architetto Maria Francesca Conti. Il compratore britannico Auschwitz ha stilato la classifica dei dieci borghi più belli d'Europa. L'unico borgo italiano in classifica è Vernazza, che guadagna la quarta posizione dopo Al-Sat di Austria e prima di Tobermory nell'isola di Mull in Scozia. Sono molto soddisfatto di questo risultato, commenta così il sindaco di Vernazza, Francovilla, contattato dalla nostra redazione. Posti meravigliosi in Europa. Ce ne sono tantissimi. La quarta posizione conquistata da Vernazza ci riempie di orgoglio. A Vernazza sono nato, cresciuto, sono stato comandante della Polizia Locale qui e quindi ci tengo in modo particolare. Come amministrazione ci siamo dati da fare per mantenere meraviglioso questo borgo. Siamo molto contenti di questo traguardo. Compie cent'anni l'ammiraglio Luigi Romani di Lerici, decano dei comandanti generali delle Capitanerie di Porto, corpo di cui è stato a capo negli anni Ottanta. Alla luminosa e lunga carriera in uniforme, Romani ha affiancato la passione per la cultura e lo studio che ancora oggi, raggiunto il secolo di vita, lo rendono apprezzato e vivace, relatore in seno all'Università delle Tre Età di Lerici. Nella giornata di lunedì prossimo, 28 febbraio, Loriano Isola Bella, alle ore 18.30, sarà alla sala del ristorante La Gira, in località della Foce, e presenta il suo saggio diario in viaggio nella nostra storia repubblicana. Sono previsti nella presentazione gli interventi del giornalista Riccardo Sottanis. L'autore coglie l'occasione di inserire tanti scampoli della vita della nostra città, illustrando le varie iniziative assunte per trasformare negli anni Ottanta il nostro sistema economico. E passiamo al calcio, parliamo dello Spezia. In vista della sfida contro la Roma, il tecnico aquilotto Tiago Motta ha parlato come di consetto in sala stampa. Sentiamo. Ogni partita è una storia diversa. A Bologna è andata così, tante cose che dobbiamo migliorare. L'importante è mantenere la continuità del lavoro che avevamo dimostrato nelle ultime partite, nei primi minuti contro il Bologna. Affrontare una squadra importante, difficile, perché è costruita per andare in Europa e il nostro campionato è qualcosa di diverso, giocando in casa e affrontare la partita come l'abbiamo fatto sempre, al massimo, cercando di portarla della nostra parte e alla fine, se meritiamo, avere un risultato positivo. In zona sta bene, stava bene anche prima, però c'è davanti a lui un giocatore che sta facendo anche lui molto bene, che è il caso di Ray. non abbiamo Manai per una squalifica e la possibilità di poter giocare in zola, perché è uno disponibile e è uno che si sta allenando come gli altri. Vedremo, come per tutti gli altri giocatori, di valutare anche l'ultimo allenamento e mettere la migliore squadra possibile in campo. Kevin, entrando durante la gara, ha fatto bene le ultime partite, sa che deve e che può fare ancora meglio. anche prima era pronto per fare dall'inizio, però le scelte sono state diverse e vedremo anche lui valutare per la partita contro la Roma se inizia o se alla fine aspetta il suo momento per poter aiutare le squadre dopo. È un momento difficile sicuramente per lui, per tutti noi, qualcosa che succede mondialmente, che nella storia si è visto che vanno evitate, che le guerre vanno evitate e cercare di, al prima possibile, che si torni in primo piano la diplomazia e stare vicino a un giocatore, a un ragazzo, a una persona come Covalenco, che tutti i giorni con noi ha tutto il nostro sostegno. Poi, a livello sportivo, prima di una partita valuto tutte le possibilità. È una situazione particolare dove devo anche lì valutare in un modo un po' più diverso degli altri. E dal calcio passiamo alla Pallavolo, altro derby regionale a Lavagna per la Trading Logistics Spezia, dopo quello stravinto col CUS Genova, in servizio di Andrea Catalani. E vai di derby, dopo aver succlassato a domicilio il Global Colombo Genova e poi al Palamariotti Spezzino oppure il CUS Genova, la Trading Logistics Spezia adesso, dopo due derby regionali, si appresta quello del Levante facendo visita all'Admo Lavagna al Parco del Tiguglio Lavagnese domenica 27 febbraio ore 17.30 per la diciottesima giornata del campionato di serie B maschile nazionale Girone A. Se va come nei primi due derby i biancazzurri dovrebbero andare a nozze, vedremo per la cronaca l'Admo Lavagna è squadra dietro di loro in classifica nel raggruppamento ma tuttora al di fuori della zona retrocessione. Le immagini intanto si riferiscono al 3-0 rifilato al CUS. Allora, è stata una partita molto difficile ci aspettavamo una squadra forte che da quando ha effettuato il cambio dell'allenatore ha preso un ritmo completamente diverso e abbiamo seguito bene le indicazioni del coach e ha pagato abbiamo vinto 3-0 risultato utilissimo per la classifica. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro TLS giornale io vi lascio alle previsioni meteo a cura di Limet il centro meteo per la Liguria vi ringrazio della cortesa attenzione e auguro a tutti una buona serata e per domani una santa domenica arrivederci Un saluto da Simone Frattini di Limet ultimi giorni del mese caratterizzati da correnti settentrionali sono attese giornate stabili e prevalentemente soleggiate ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani domenica 27 febbraio in Liguria al mattino bel tempo sull'intera regione da segnalare solamente qualche innocua nube sull'estremo ponente nel pomeriggio ancora condizioni di bel tempo con solo qualche stratificazione medio alta sul Levante specie interno ancora nubi sparse sull'imperiese i venti saranno moderati dai quadranti settentrionali locali rinforzi fino a tesi in serata il mare si presenterà poco mosso o stirato sotto costa mosso a largo ed infine le temperature che saranno in ulteriore lieve calo lungo la costa i valori del mattino oscilleranno tra 2 e 9 gradi mentre nell'interno tra meno 9 e più 2 gradi le temperature massime saranno comprese tra 10 e 14 gradi sulla costa e tra 4 e 11 gradi nelle zone interne per questa edizione è tutto maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com e inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita lì mätt lì mättedì lì mättedì lì mättedì lì mättedì lì mättedì lì mättedì